Allora, buongiorno belli belli, io sono Maurizio Fraccon, un medico specialista. Grande giove! Vedo che parlate di Conte e quindi ce la vedete quei politici. È uno scandalo. Soprattutto con Conte. Sì, ho letto anch'io qualche dichiarazione. Io ci avrei da dire poco su questo, ma ci avrei da dire molto su come aiutare tutto il mondo. Che sono il salvatore della patria, che sono il salvatore della prova. Doc! Dottore, dottore, come si fa a salvare l'umanità? Mi dica subito come si fa a salvare l'umanità. Ma è una cosa molto semplice, tanto semplice che mi fa sembrare intelligente. Che mi fa sembrare intelligente. Spiegami la moneta. Noi sostituiamo il denaro al tempo. Causerebbe un paradosso temporale in cui il risultato potrebbe provocare una reazione a catena che scomporrebbe la tessitura del continuo in tempo-spazio distruggendo l'intero universo. Ma io non so, è scemo. No, no, no. Bastavano 30 secondi. Bastavano 30 secondi per farti sembrare scemo. Riconosco che è l'ipotesi più pessimistica. La distruzione potrebbe essere molto circoscritta e limitata alla nostra galassia. Noi sostituiamo il denaro al tempo. Dovare a salvare il mondo. This is The Morning Show.